Gli inquilini delle case popolari dell'Ater di Teramo, soprattutto gli sfrattati dal terremoto, sono scettici sull'annunciata sostituzione del commissario Salini. Sì, ne abbiamo anche spiegato in varie occasioni i motivi. Non perché noi dobbiamo tutelare questo o quell'altro commissario, questo o quell'altro colore politico, che a noi non ci interessa. Semplicemente, anche come abbiamo avuto un rapporto corretto con il dottor Salini, che abbiamo verificato che purtroppo le difficoltà non arrivavano soltanto dall'Ater di Teramo e quindi ha fatto la sua parte e quindi adesso, anche se ne arrivasse uno altrettanto disponibile, altrettanto bravo, è chiaro che dovrà prendere già visione di tutte le problematiche che ci sono e quindi ci saranno sicuramente dei ritardi. Ma quello che ancora già ci colpisce, ormai sono settimane che è stato annunciato questo cambio ai vertici dell'Ater di Teramo. Praticamente, quindi, da un lato si stoppa un presidente in carica e dall'altro lato sono settimane che ancora non sappiamo chi può essere il sostituto. La cosa è un pochettino triste perché, per un punto, si sta sostanzialmente perdendo tempo perché almeno avessero detto che non va bene Salini per questo, questo e questo, almeno avremmo pure verificato, ci saremmo fatti un'idea. La sostituzione è legata allo spoil system che scatta a fine mese? Beh, noi ovviamente, poi esiste, sarebbe il nuovo di cariche di questo e di quell'altro partito. Ovviamente, appunto, sono cose che a noi non interessano. E quindi, quando si vengono a cercare i voti, a prescindere dal colore politico, diciamo, perché a Teramo hanno fatto la passerella tutti, tutti. Noi abbiamo criticato pure la De Michelis quando venne a Teramo perché si diceva, pure all'epoca che le cose si stavano facendo bene, invece non si stavano facendo bene, non abbiamo avuto reticenze a criticare. E così facciamo altrettanto oggi. Nel senso che gli sfollati, i cittadini, non possono contare soltanto prima di votare e poi, una volta votati, praticamente il loro parere, i loro opinioni, non contano più niente. Però, diciamo, al di là di questo, perché purtroppo abbiamo le mani legate e non siamo noi a decidere, possiamo soltanto registrare che si sta ancora perdendo tempo. Questo cambio ai vertici che appare, per quello che ci appare, come un ricambio di poltrone tra questi e gli altri partiti, ovviamente questa cosa a noi non ci interessa, come abbiamo detto, è piuttosto sgradevole.